Requesting Recon Flyover UAV in salvolo Chi è Ellie? Chi è questo? Fammi comprare anche un'altra maschera a questo punto siamo miliardari Buongiorno BigFranci! Come stiamo? Come stiamo andiamo Francescone? Tutto bene? Sei negli ultimi 5, fantastico! Sei forti, io sono bravo ma anche te di più Grazie mille, Mila, Diego, Nicolino, benvenuti ragazzi Autonomia UAV esaurita Dove cazzo si esce da qua? Non ci credo Sinceramente però no, non so... Non so chi sia lui e che gioco sia bro Sincero eh? Grazie movimento! Requesting Recon Flyover Buon avivin salvolo Autonomia UAV esaurita Cazzo in arrivo c'è una nuova Devolevate le trenta? Devolevate le trenta kill? Ragazzi! Dai! Spapi GG per KO2 ragazzi! Si, Blood, si l'ho giocato, l'ho giocato Bella Masi, Alessio, grazie mille per il like E Mr. Lee Conoscerà Allman Eeeh un personaggio della storia forse eh? Non mi ricordo eh 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 30 bombe così ragazzi nel chilling più totale lo sapete ragazzi Oh Giovanni Corti te le dedico Guarda qua Giovanni Cioè guarda la qualità una volta per tutte Guarda, guarda la qualità Giovanni Parco a due, guarda le trenta bombe Giovanni Bella Gio, Simo, Walid, Davidone, grazie mille per il like Giovanni Corti Eeeh Dai Dopo questo tornerò Arrivo Giovi, arrivo, dai, arrivo, 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 arrivo Mamma mia Giovanni, ma guarda Giovanni Bella Lucone, Federico, grazie a tutti per il like ragazzi, grazie di cuore davvero Gio 88 nazionale, bim bum bam, bim bum bam Bella Federico, Alessio, grazie mille per il like 30 bombe così, nel chilling, Gio Corti Ciao Ciao Hai visto? Come si gioca? Mamma mia Ciao amore mio Ma, che città è attivato? Eeeh, non lo so, qua ieri sera, perché anche ieri sera ho fatto 31 bombe Nel chilling Beh, Lorenzone, Alessio, grazie mille per il like ragazzi, grazie di cuore Forte 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 un skip Oh, ragazzi siamo 8000 follower Appena fatti ragazzi Gigi, spam di Gigi Donfagnani Spam di Gigi Donfagnani ragazzi Gigi ragazzi, siamo in 8000, vi ringrazio Ciao Anto, dimmi Erli, dimmi tutto, grande Ana Sarebbe proprio di ferro No, dove lo andiamo a fare queste? È tipo un po' difficile Dai, raga Che bello Sono contentissimo Potremmo far partire un party malavitoso qua per gli 8000 follower, eh? Potremmo, eh? Potremmo per festeggiare, eh? Oh no, Giovanni, diglielo Dai, donate strozzi Cazzo, un party malavitoso Spenderli in vacanza, guardate il Dunfana che deve lavorare Eh, 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 eh Ma quanti amore ha, eh? Sono tutti amori miei Erli Eh, eh, eh In tutti i sensi Pietro, sono caldo, in tutti i sensi Eh, 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 eh Mi sento io la claccio Eh, eh, eh Grazie per le 100, Manuelone Dai, ragazzi Altre 50 stelline Affiancate alle 100 Facciamo partire un party Dai, un bel cazzo Oh, Fra, questi sono Questi sono Questo schiaffo che ti tirerò adesso, eh Vale, esattamente per 8000 persone Va bene, eh Fortissimo, eh Il set PPSH è questo, raga Aspetta, adesso faccio Questo qua è da parte di tutte le 8000 persone, va bene Non te la prendere con me, eh Ma Mi faccia Poverino Un po' Un po' Insomma Ferito, qui Tutto Tutto così Il manichino Beh, Davidone, grazie mille per il follow Grazie mille Dai, dai Io qua non faccio partire il party Qua proprio mi ho Il dono sta succare Io sto succare Questo mi ha ferito nell'anima, però, eh Perché cazzo ha fatto? Perché non va giù Una piantana È vero, è vero, micchi Ma sai che se me la trovate, raga, è una piantana per il... Per il manichino, giuro, ve la pago Perché io non la sto trovando, giuro Cioè, se mica lo voglio lasciare qua Palla Palla? Impianti un palo sotto Beh, in effetto Lo buchi Mi metti un... Una base Il manichino sta su Oh, la base Base per altezza Diviso due Dai, dove andiamo? Andiamo Winery Marca un punto di lancio per il team Sopravvivete per fare i carri caduti E accumulate punti perché tornino più in fretta No, non c'è, bro Non lasciarmi da solo Sopravvivete per fare i carri caduti Arrivo, bro Ma siamo in duo? C'è coppie? Ah, c'è C'è un soldato 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 A casa A casa A casa, belli miei A casa A casa Amore, io provo ad andare allo show Vai, amore Vai pure Mamma Macchiato facciamo chi vuole macchiato già scrivete in chat che Erlinda lo prepara Allora qua abbiamo Arrivo minchia c'è un bot di gente arrivo Uno a te poi Uno a te vuole farlo Dai gazio Arrivo arrivo Non lascia Da dietro Vittorio grazie mille per la condivisione Grandissimo Ma raga Ma come non è morto per entrare con l'RPG lo sapevo Cannato Scrive al youtuber indiano che segna autodifesa Eccoli qui i caffettini per la chat Che ti prendete Grazie mille Grazie mille Buona Lorenzone Amma il Gio 88 Sei caldo Sei caldo eh col Donfano Amaro Sto qua e qua Amaro è vero Caldo tutto Amaro Amaro Sì Allora prendo una bottiglia l'acqua perchè ho caldo Amo vai pure amoo Amio 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 Non fatti problemi Amio Grazie Lorenzone nazionale Ragazzi pochi like qua Vi vedo un po' freddi Se dovete fare i freddi Andate in cella frigorifera Già ve l'ho detto Già ve l'ho detto 85 like Ah dai Spingone ragazzi Spingone Spingone Minghie Minghie Ma il manichino Hai Sì Sì Ce l'ha Ce l'ha No Come sei Buggato Adesso penso che vada Ce l'ha il buco per inserire il pallo Ce l'ha Ce l'ha Beh Roberto grazie mille Brille che tiro Che pallo inserisci dentro al buco? Inserisco il mio pallo che c'ho tra le palle Vedi perchè ti hai preso il manichino? Mi dissocio Mi dissocio Ci dissociamo Eh Sì Lorenzone Grazie mille per il like Buongiorno a tutti Roberto Grazie anche a te Benvenuti a tutti Prendi il diametro e cerca il palo per gli ombrelloni da esterno Eh ma poi serve anche il peso dietro Capito? Cioè devi pensarla come cosa Perchè tu gli tiri il pugno ma non deve cadere Maniaco Ah ovviamente si scherza Eddie si scherza Ma il nome del manichino Lo scegliamo domani ragazzi Domani glielo diamo Più tardi vado a comprare le frecciatine Per incastragliere nel culetto Domani che è l'ultimo del mese Gli diamo il 9 Poi raga adesso sto cercando qualcuno Che venga a casa mia A montarmi cam nuova Microfono nuovo A montarti Asta nuova Asta per il microfono Asta per la webcam GoXLR Uno che mi venga a montare Oggi hai dei gusti strani Perché oggi mi piace un po' il pisello E il manichino E quello che ti monta Ma anche tu mi piace Cioè tu No no Tu no? No no A me piace ancora la La patata Ah A me no Io ho finito No scherzando Hai finito? Bella ma apri Sono con non fanno a Pietro 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 combina guai Pietro piccolo C'è la No ovviamente ragazzi Scherza eh Sto scherzando Pietro ti giuro sto scherzando Vieni sul tarmin chat Me lo merito Ehi ragazzi Don è uno smontatore seriale Non provate a dire Don vuole essere montato Perché Non se ne parla Mi piace troppo La fregna Per Per pensare a queste cose Esatto esatto Quello In quel caso si Ma la Fabri Grazie mille per il like Ragazzi Ciao Concetta Angela Grazie mille per il like Benvenuta Ascolta Stiamo andando ad ancora winery vero Sì perché cosa vuoi fare tu Chiedevo per un amico Ah ok Sì sì Pietro andiamo a winery Bella Francesco Grazie mille per le Pietro andiamo a winery E mica hai detto Chiedo per un amico Ah ok Guarda lei Guarda lei Dove ho avuto tutti per il like Regà Guarda che la sua età Eeeh Chi è che mi spara qua Dove facevi la metà Tutto mal scalzone C'èvi l'MD L'MA Quelle robe li Oh Oh L'88 No Eh T'è l'altro Quanti sono? Anche dall'Egitto Grazie Do Già che hai camperato Uno Appena rientrato Sopra deve essere Arrivo sul tetto E' qua 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 Quale? Ho fatto due bro One shot E' duro frate L'ho lasciato one shot Ho finito con le cariche Avevi fatto 30 kill Ma le hai comprate? No bro Te lo giuro bro Oh frate Ho finito i colpi Sul secondo Siamo due Siamo io Brutto cagare Fai cagare Ciao Lucone Bello mio Come stai Luca? Sei tornato? Mamma mia Lucone è tornato Ragazzi Da Dubai Che moderatori Che c'ho Vanno a Dubai Grande Robby Allora ci vediamo domani Il Sabdi Spacchiamo un po' di culetti Domani Già lo sai com'è Porco due Anche secondo me Anche secondo me 30 Un euro a chilo Ho pagato prima Maia Andiamo a mettere un like Al gioco corti Ma la carmine Grazie mille Chat di Donfano Insultatelo tutti quanti Grazie Ma è così bravo Il Donfano Porca la puttana Te l'ho messo uno like Direzione Torino Ah Non manca poco Allora Lucone Bella Simo Tony Grazie mille Per il like ragazzi Comunque dopo Andiamo su Rebirth Perché vedo che qua Non sei buono No Ma va Allora Questo VPSH Poi mi ricordavo Di averlo fatto oro Donfana bot Ti voglio bene Giovi Anch'io Mi meti Cortito della morte Bene Antonio Grazie mille Grazie mille Per il like Hashtag Donfana bot Dite qualcosa Giovanni Corti Ti lascio Ah va bene Erlì Ti aspetto Va bene Trenta li ha pagati Bastardone Hai visto? Eh? Che bastardone Hai visto? Ma secondo me Hai anche ragione Uè è ammazzato Sempre lo stesso Per 30 volte No 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 Ho appena fatto Corretta sua Veramente Beh Robertone E come faccio a vederlo Miki Quanto costa? Vai Manda Che comfort bro Ti manca solo Vabbè Mi dissocio Lo sai Lo sai cosa potrebbe mancare Loco Lo so Lo so Io lo so Vai che te lo dica Che cosa No mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Mi associo Però mi di solo Ragazzi Ti parli minorenne Consensenti Si Mi piace troppo Troppo trombare Se mi fidanzo Poi non streamo Più Eh no Ero gelato Sto scherzato Eh Daniele Vimmi Riccardo Deci a farmela vincere Se troppo ci vuoi vincere Mi regalino a Lamborghini Che cosa funziona Che cosa Sì due Una per il sabato E una per la domenica Mamma mia Non tiro due volte Allora Facciamolo subito Chi è già Chi è Vineri Vineri qua Vieni qua La casa è grande Beh la B mia Mare mia Come sai Ce ne è uno dieco zombie Fate piazza pulita Dei bersagli Fatto uno Disturbatore nemico Individuato Nella vostra area Siamo rotto Diecimila polvere Adesso Regà Vai Dai E va E mo E nos Fa la maniaggio Sto arrivando Buonco nemico Sta sopra Sta sopra il tetto Come faccio a salire A compro marlo Sta qua No Va di là Fatto Sotto L'altro Sotto sotto Eh non so Me l'ha fingato Quando ho ucciso Quello lì No È sopra Traccato 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 Qua Fatto Mamma mia Mamma mia Il donna PR Grazie Mi like Robare Mentre stream No Gente Cioè Veramente Non è Ma Capito Lugano No Addio Sono due Io Non verrei No L'arma Perché Non uccide Di che L'ammerrei Perché Era scarica L'arma Lo facevo Era one shot Trozzo Qualcuno Ragazzi Fate finta Fate finta Che questa È la faccia Di Gio Tartotto Fate finta No Io mi metto Qua Lo prendo Dico Gio Che cazzo Pusci Gio Fammi vedere La faccia Di Gio Tantotto Vuoi vedere Tu mentre le prendi Vuoi vedere Vuoi vedere Tu mentre le prendi Ti giuro In quel momento In quel momento Lì Mi mettevo lì Te lo giuro E te ne tiravo due PAM 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 Impazzivo Mamma mia Allora ci vediamo Puoi tirarne Se vuoi Mamma mia Ma Ti 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 Non ti asco A sinistro PAM In faccia Così Proprio Non deve capire Niente Grazie mille Per il like Pasqualone Benvenuti a tutti Ragazzi Spam Di Gg No Sper Di Gio 88 Bot Spam Per favore No Questi qua Sono forti Mi dice Ropo Che sono due No Ma Fai il serio Ti ho detto Sono due Ma Vi Facciamo Respawnare No Me l'hai detto Ropo Che stavo Già Pushando Non Morlo Il push Ma Il manichino Pensando Che sia Gio Mi hai insegnato Te A pushare Bamba Ho capito Ma fai risparare La Filippo Marcon2 Gio 88 Superbot Gio 88 Bot Ali How are you How are you man I was in Greece man For holidays I stay in Crete For 11 days And now I come back man You understand But I'm not just gonna That's why I was hide man That's why I was joking I don't know to speak in France I only know Nick Tamer Che la puttane de Tamer Eeeh No Mi dice La puttane de Tamer Eh yeah La puttane de Tamer You know Because I was in holidays And I metto One French guy And he He learned me All these Words You know E chissà Chissà cosa ti ha insegnato Ma la vicina non è morta Infatti Che cazzo ci fa E' il national bot Michele L'amore mio come stai Beh Tatiana Dino Francesco Ali grazie mille per il like Stavo parlando in inglese Perché Faccio i palco Oh no Fuck Cazzo mi insulti la mamma Brutto pezzo di cacca Beh l'ambito grazie Alla Dino Grazie mille Le sottletette De control Giusto no Eh sì Oddio Non penso Allora fratello Vieni a prison Porco di quel 2 3 4 Fammi vedere un po' di discoteca Don ti consiglio di allontanarti Quando stai Sotto sopra Dove Quando stai Sotto Alla finestra grande No mi fa Ficca ma questo da quando Via Grande bro Non morire Porco 2 700 di vita Adesso sei nel go Al gulag Su Rebill Thailand La lingua di quelli senza bidet Non mi dissocio Io ce l'ho il bidet Io a casa ce l'ho Io il bidet a casa mia ce l'ho Personalmente mi Faccio la cacca C'ho il bidet Mi lavo il culettino Vado a capire sti francesi Dopo che cagano Fanno E si guardano la cacca sulle mani Cosa fanno questi Senza bidet No Ci diso Ragazzi no Ci diso Ciao Ma qua non è ritorno Qua è seria la città Ma qua è seria la città Ma qua è seria la città Ma qua è seria la città Vai qua Fa il culo Ma non si ritorna Ma c'è un culo Ma E sarò fuori dai giorni Thank you bro Vai e fatti valere Cazzo Mi scappolino Taran 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 Don Taran Non mi avevi detto sotto Pezzo di frango Dimmi Tutto morto qua Mi rompe Cacciatemi un rest subito Prima che picchio tutti qua dentro Muovete Audio Bella sta modalità Cazzo Bella Sta modalità è strabella Giuro Fa cagare il cazzo Fa cagare Ciao Ligiana Giuro Ali Mircolino Grazie mille per il like Chi era il saco a me Buongiorno Luis Amore mio E come andiamo No il macchiato non ha fatto effetto Bella Francesco Oh Vai in un punto safe Dove cazzo Ho tornato Va dove sono morti gli altri Io lo banno Ciao Luigi Io me lo banno E' uno qua Perché continuano a parlare Porco il cazzo Ma che rabbia è questo bro Per favore Ci dobbiamo ancora un po' Dal cazzo E' morto e' morto Amore mio Joel Come stai? Tutto bene Grazie a te E' bastardo Aspetta Ma io c'avevo Come andiamo Joel Tutto bene? Però Stai buono va Stai buono Oh ehi Stai buono Noo E' pagarti Sììììììììèate Dai 500 trovo e caccio il resto Che cosa puoi fare? Cosa è? Ma che rabbia è te zio così seria? Mi spiegi? Ma lo sa mai mi mette l'ansia mai Sotto c'è una cassa Eh vaffanpuro Sotto c'è una cassa Ma lascia che finiscono Almeno muore e siamo contenti Avrò una quinta Avrò ma guarda Ma per l'amor di dio Ma Vado a pranzo Grande Joel Fino a che ora ce l'hai? Oh questo qua ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha A fare? Muoco un po' addormentato No no Vedi la tecnica Ma che tecnica però La tecnica è quella di andare fuori dalle palle E restare Quella è la tecnica Facciamo un contratto rifornimento Hai vinto La ditta è tua però Joel Giusto Delle scarpe no? Si si a che ora? A che ora è stasera? 9? Beh la tia Va bene Ci becchiamo stasso Se mi dici perché ora La tia grazie mille Per la cattina Bello mio Ma dove è che stai andando Amore mio Un resto di farlo Beh Minchia Go Usciamo? Boh aspettiamo Vediamo Sì ma questo va Ah ok Joel va benissimo Però va bene Va bene Grazie michelone Grazie mille per il like Bello mio Benvenuto Dai allora per le dieci Dieci e mezza Ragazzi stasera Sei come millario alicante Ma poi mi dicono perché l'insulto Ma io Bella Davide Che cazzo C'ha un cervello come me Bella michelone Grazie mille per il follow Michelone Grazie di cuore bro Grazie davvero per il follow Benvenuto Man if you ask me We gonna win this game Trust me Se tu contribui all'evento Sei tu Ce n'è ancora di strada da fare Lida ce n'è ancora Grazie Giacomo Grazie anche a te per il follow Big bro Grazie di cuore Ragazzi abbiamo appena superato Gli 8000 follow Ora siamo verso i 9000 Dai con il follow Dai Gio Vai a pigliare il coso lì Vai a fare il rest gratis E scendi qua Ma Gio bro Ma perché queste stronzate In mezzo alla gente Va bene va bene Fate come volete Mi muto Bella Non dico più un cazzo Tanto bravi sono loro Non dico più un cazzo Basta Fa niente Dai Mamma mia Eh vabbè Vabbè scendi qua Porco due Cosa devi fare Mamma mia Oh Che due coglioni Anch'io che muoio Va bene Però che cazzo Teniamo sto game Dai Ci sei? Me lo è mutato Ah L'avevo mutato Dove sbaglio Lo so Mi ha mutato L'avevo mutato Scusa mio zio Dai figa Dai figa Ma c'era lì Il costo Il rest gratis Bro Fidati Non fare ste robe Perché non ha senso Davvero Perché anche io Non ero io Ma sei arrezzato a te bro Ma dove Il rest gratis Era posto Era contro Figa Andavi là E' per vincere i game Io lo dico per quello So che poi divento opprimente Rompo il cazzo Divento Fastidioso Ma lo faccio perché Voglio non fare i game Quello Quello anche Senza Bastale No minchia Perché voglio vincere i game Non c'è voglia di restartare 60 volte Perché la gente Della prelob Non gli interessa No Facciamo la win Cazzo Alla gente Della prelob Non gliene fotte un cazzo Diteglielo chat A voi Della prelob Io lo so Non vinterete Che cazzo La vuole vedere Grazie Sebastia Andai a chat Che ci manca un giorno Alla fine del mese Abbiamo quasi completato Tutte e due le barre Dai Se le completiamo Hai caldo amore Non mi dico Una bella limonata No alas Ho bisogno di un clima Ho bisogno di un clima Non ce l'hai Hai ragione Pasquale Pasquale hai ragione Pasquale di rosa Giustamente mi dice Madonna Non hai ancora capito Che il profilo è un bot Profilo? L line of the mare Ma chi? Pasquale Sì eh Ma no ma Cioè Mi sembra Mi sembra Mi hanno bannato Tutte le live A Pasquale di rosa Sì Insu Ma a me Qua non è insultato Cioè Non sa bene Stai Inflamma Piglia per il culo Tutti Oh A me A me non l'ha ancora fatto Quindi Non faccio Quello che fanno gli altri Solo per Farlo Uguale a loro Da Devo Le fare Un move È bullissimo Grazie È l'impronta Grazie mille Per il like Bro Dai Concentrate Dai Cazzo Evitiamo di andare Con il cazzo Di winery Magari Di due rotto Di più la partita No ma è là Dove andare Sì Ti provo Keeper È ancora piena C'è ancora più piena Dimmi Erly Dimmi tutto Arma nuova Si chiama In effetti Poteva andare No No ma tu scivoli con O E salti No Scivolo con L1 Questo qua dietro L'ho cambiato con cerchio Ritorno Il gas Si sta avvicinando Se iniziate Andiamo a keep Indica un punto Di lancio Sopravvivete Le spazi E accumulate Si chiama Arà La nuova Mitraietterly Arrivando un nemico Versaglio in capo Appatteteli Mamma no No dai ma porco il cazzo Però che coglioni Io ero in mezzo a tre Giuro La chat Io mi dicevo Non lo so Vai vai Restart Restart Non lo so Che cazzo Si è buttato dentro Ci andiamo vicino Inizio Ma non ha tempo Di fare le prime kill Poi No ma Ha buttato dentro Una bomba La granata Non so che cazzo Era il lancio a granate Che storia Giuro Io bestemmio male Oggi Ma si Fa niente Fa niente Ma si Non cazzo Che ci devi fa Che gli devi fa Ma Ne puoi fa niente Ne puoi fa niente Che gioco è Call of Duty Warzone La Sen Oggi Comunque Non mi fai gli auguri Per gli 8000 follower Scusami Quanti auguri Grazie Pezzo di merda Ma veramente 8000 Si Si Porto Perché sono Scusa Si prova Ma Ma Provo Ad avere 8000 Come numero E basta Bella Lugone Giuro 8600 persone 8000 8600 persone Anca poco Allo schieramento Preparatevi a dovere So che gioco è Ma non mi piace Lass Sincero La Ra La Ra Si chiama Ra R.A Cioè Ieri con Ieri con Tony In quartetti Si Porco Due Continuano a fare 11 kill 12 kill Bro Ma perché Con me in lobby Raga E' così La vita Al PDR Lo conosco Ma che cazzo è Bella Ma anzi E' Pasquale Qua Ma non so perché Si fa chiamare Tipo Ma non so Chi è PDR Grande Un PDR Ma non so neanche Un scherzo Stia Ah si Vai tra Ragazzi Un scherzo E' Diciamo che Non è proprio Uno dei giochi Cioè E' un Call of Duty Mischiato a Fortnite Boh Gioco strano Bella Gigi Grazie mille Pre like Bro E lo so Fra Ciao Vince Buon lavoro Bello mio Bel lavoro Dai Oh Sti cazzi Facciamo Farlo Una decente A portarla A casa Dai No Comunque Devi abbassare Un po' Il ratio Eee Devi abbassare Il ratio Eee Ciao Gigi O Lo azze Ancora di più In modo che Lo potrò Tutti Eee Vai E' Poi Vieni qua Vieni qua Qua Al cuoco Accumulate Punti Perché Tornino Più In fretta Nemico In arrivo Nell'anno Uccidete I nemici Senza Che lo Passano Loro Per fortuna Sei dei No Tu Qua 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 Non Non Più Palli Dele Adesso Intorno Al 1 Come Stai Gigi Tutto Bene Io Ho Trovato Le mie Arme Toccato Eh Niente Stai Corazzando Stai Dentro Stanzino Uscito Stai Arrivando Un nemico Attenzione Stai Dall'altra Parta Dio La Tavessa Maia Ma Pezzi Un nemico Un nemico Attico La mano Gio porco Due Stai Tivando Oh Dennis Come stai Bestia Grande Guarda qua I miei Paesani Nazionali Come state Ragazzi Sto bene Sono un po' Gialotti Su voi Arrivo Ma Ma Sta Seringa Non si toglie Più Quella Grande A me Piace L'effetto Che dà Esatto Io non Segui Non Insultate Priste Minchiate Per favore No Va per un Gioco In chat E wow Gioco E nuove Tiro Vai Cannalo No C2 Uno Sopra Qua Di Tiro Super Sopra Beto C3 Cast Sopra Si Ma Mamma mia E tra gli ultimi 25, avanti così Fai un altro wall job Dovai lo shop per l'avanti Sopra No, no, ce l'ho di qua lo shop Ok Esci Puoi salire con le cose? Ho preso la corda Guarda che è sotto lo shop eh UAPI alleato in volo Datesi la cassa Faccio di equipaggiamento alleato Ci hanno colpito Se mi è partito io ci dovevo fare Fa l'altro poco bene La scuola sicura Cassi in arrivo UAPI nemico attivo Sopra Questa Mi sparano Dai che ho una mano bro Per favore è one shot fratello Un muo di vita Si è piastrato bro Lasciate tutti i bel like e tiro Regà dai per favore Arrivo Puoi fare di meglio No io uso predefinito Però salto con R1 al posto di Di cerchio raga Che roba è? Sì 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 Mamma mia Sì 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 Raga Per favore Una domanda ho chiesto Non ha chiesto se vi può trombare i parenti Vi ha chiesto se Caldera o Rebit Raga In due rispondono Su 60 Cioè tanto male che chiudiamo la live Ciao ciao raga Se non c'è Cioè Se non c'è Parlare tra noi e voi Credetemi Boh Minchia ha chiesto una cosa In 60 non ha risposto mezza persona Cazzo Va bene Va bene raga Grazie eh Mamma mia Mamma mia Non chiedo soldi Non chiedo niente Però minchia almeno Il parlare tra di noi raga Che cazzo parlare Siamo in 60 Boh Se volete lo streamer che sta zitto non parlo eh Boh Mamma mia Mamma mia Andrà su Caldera No no vai vai Non hai gli altri due Rebitale No Non c'è giù Adesso no Mi gira il cazzo raga Un tipo fa una domanda Apposta per capire Che cosa fare Che cosa no Siamo in 60 raga Che cazzo c'è Eh non è possibile che mi risponda solo Joel e un altro Non è possibile Perché allora o gli altri sono robot Del computer Cioè boh Vabbè Veramente Non so che cazzo dire Non so più che minchia dire giuro Vai start Restart Porto un skip Mamma mia oh Mamma mia Giuro non chiedo più niente regà Tanto Tanto vale non chiedere più niente Tanto non vengo cagato I miei moderatori non vengono cagati Che cazzo Non state neanche in live allora Se dovete stare qua regà Ma no Anto nessuno ha detto che siete bot frate Ma nessuno ma va Non mi permetterei mai bro Però che cazzo Mio moderatore dice meglio caldera O meglio Fortu skip Siamo in 60 in chat In 60 persone Che c'ho dietro di me Che mi stanno guardando Ma perché se io mi giro E dico ragazzi preferite caldera o rabbit Non mi rispondete Cioè giusto per capire Eravamo in 60 Che cazzo boh Vabbè fa niente Dai fa niente Ma niente Italo Eravamo qua in chat Bro ho chiesto ragazzi Vi piace di più caldera o rabbit Eravamo in 60 Non mi ha cagato mezza persona bro Giuro Mezza persona E vorrei capire se vi avessi tutti qua dietro E ve lo chiedessi Se mi rispondereste Boh E mi spiace Perché poi magari Alcuni della chat dicono Guarda che pezzo di merda do No regà Non sono un pezzo di merda Vi voglio sentire Vi voglio Come i miei fratelli Vi voglio come amici Vi voglio Non voglio gente Che sta lì a guardare così Due anni E non ha mai scritto ciao don No Non me ne fanno un Non ti voglio Non ti voglio Giuro Non ti voglio Ciao Miria Voglio gente cazzo che mi parla Che mi dice cosa fa Durante la sua giornata Chi cazzo è Dove abita Voglio gente Voglio conoscervi regà Se dobbiamo stare qua Cazzo come se stessi conoscendo una tipa Una ragazza Ciao guarda Sì Sì no io streamo È il mio lavoro Sì il mio È il mio Dai regà Cazzo io vi voglio bene Sono qua vi rompo il cazzo Perché vi voglio sentire Cioè Il mio moderatore chiede una cosa in 60 Non mi cagate Vabbè Va bene Beh Alessandro e Stefano grazie mille per i like E Sono calmo Giuro Però che cazzo bro Che armi usi Adesso sto usando il PPSH Fabio e il car 98 bro Un bacio Un bacio come abito a Milano Di dove sei Pasquale? Vai Andrione Arrivando un nemico Attenzione in alto Dai passa bro Vieni a trovarmi quando vuoi bro Come salto Basta Basta Beh Erman Mariolino Come salto potresti usare Che salto mi consigliate raga? Nuovo Meta Ma niente Ale Un mio moderatore bro Ha chiesto alla chat Chat Vi piace di più Caldera o Rebir Eravamo in 62 persone Ale 62 E mi sono incazzato bro Perché in 62 hanno risposto solo 2 E ho detto Cazzo Se devo avere una chat di persone Che mi sembrano robot del computer Bot del computer Gente che il grau Raga il grau come salto paura Se devo avere in chat Gente che quando chiedo una cosa simile Non mi caga Non mi caga Sincero raga Non vi voglio in chat così Ma vi voglio bene Credetemi Cioè Credetemi Io non vi voglio in chat così Voglio gente cazzo che Che mi supporta Che mi vuole bene Che mi dice cosa ha fatto oggi Che mi dice di dov'è Che mi dice quanti figli è Che mi parla della sua vita Io gli parlo della mia Parliamo in chat privata Oh trovatelo un altro stream Che vi Un altro streamer Che vi sta dietro così raga Trovatelo Credetemi Trovatelo Cioè che cazzo Poi è ovvio che uno si incazza Se non mi rispondete Siete in 60 Capito perché mi incazzo raga Solo per quello Vabbè cambiamo discorso raga Perché poi non voglio stare antipatico A voi in chat Non mi va di starvi antipatico Però era giusto per farvi capire Ce la sto mettendo tutta cazzo Per farlo diventare il mio lavoro A 360 gradi Compro il manichino Faccio quello Disfo quello Faccio quello Raga per favore Statemi dietro se mi vogliete bene Perché se dovete starmi in chat Per neanche rispondermi Quando vi chiedo una cosa Non sta Non venite Giuro Arriva Scusa Mi è tornato Ah però almeno una risposta Cioè Almeno una risposta Capisci cosa dico Dammi quella cazzo di arma Una cazzo di vino Cioè Vanno 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 Scusa di come state voi chart ecco lì per arrivare tutto bene ragazzi ma no figa mi sento preso per il culo poi ragazzi se non mi rispondete capite ve lo giuro beh la va privata e giovi grazie mille per i like ragazzi mi sono sentito preso per il culo veramente non mi sto dicendo a tavolato perché io ero lì ad aspettare la vostra risposta voi i 60 guardarvi in faccia capito e non capivo se vi piacevo io come ragazzo il gas vi è quasi attosso ah bro vai via vai via sono insieme vai via sono insieme vai via beh Giancarlo Fabio non è grazie mille per i like Gianca come sta grandi dai Gio vado a fare un po' di singoletti però su caldera si vai mi stanno giocando i coglioni ciao don ciao amore mio beh la Fabio grazie mille per il follow bestia dopo mi nervosisco tutto dai viene vederti qualche singoletto amore mio se stai staccando vado di là no no vado di là adesso vedo se arriva Nico Bacco gioca ancora vado un attimo su multi va bene amore grazie mille Gio ciao scusa ma che scusa non è per te credi tranquillo ciao facciamo facciamo la win bella Elias tutto bene vale Giovi tutto bene tu come stai ma no io non mi incazzo frate ma a me mi spiace un botto perché poi cazzo io dico io quando dico ste cose sono consapevole che piuttosto perdo dei follower però mi tengo quelli veri perché cazzo raga però io mi immagino gente che mi guarda da due anni due anni no perché streamo da uno quindi però dico magari gente che mi guarda da sette mesi e ogni volta che io streamo questo entra per tutti questi sette mesi entra e mi guarda non scrive ciao non scrive come stai don cioè io dico ma come cazzo questo come cazzo fa a volermi bene questo qua questo che mi guarda non scrive non fa non disfa non fa un like non fa niente sta solo in chat io dico uno così a me che cosa mi può portare niente io ho bisogno di gente che quando siamo in 60 e vi chiedo ragazzi cosa preferite caldera o rabbit io voglio tutti i 60 proprio bam che mi scrivono voglio questo è meglio rabbit voglio caldera meglio rabbit così è bello capito cosa voglio dire capite il mio ragionamento perché poi magari passo io per pazzo non vorrei farmi mal capire ecco ho detto bella Elias come stai rieccoti Eli rieccoti figa ma se no boh io preferisco che chiudi tutto pezzo di me pezzo di cacca ti tiro un coppino Elias di meglio qua dietro faccio una bella scoppinata amma mia grande il Giancarlo nazionale con le 50 stelline così Giancarlo nazionale grazie mille Gianca grazie di cuore bro il pazzo fallo in game e mo se ci entra in sto minchia di game spacchiamo tutte cose invece non entra spacchiamo uguale e va e mo e no e no e no e no aiee ci siamo lo ha capito bro ma cazzo ma io dico come fai a stare nelle live di 1, 6, 7 mesi bro e non aver mai scritto una volta che non ma boh cioè dico boh è da tanto che non davo stelle ma l'hanno pacciata vale vuoi vederla davvero l'hanno pacciata però non è più forte vuoi vedere vale te la faccio vedere però non è più forte vai fa tutto lo screen no no niente early niente eee dai che cazzo Elias anche te su 60 in 45 non hanno le mani per scrivere bro siamo in un mondo di senza mani eh ragazzi timidi esatto dai la stefano grazie mille per i likes boh ma sono io che sbaglio qualcosa ve lo giuro sono io che sbaglio qualcosa credetemi se no non so cosa dire controllate l'attrezzatura guardate erlinda minchia non è per insultarla però lei non sa scrivere benissimo italiano perché evidentemente è arrivata qua in Italia un po' di anni fa non ha fatto la scuola qua quindi non sa scrivere in italiano oh è sempre qua in chat che scrive rompe disfafà oh col suo poco italiano eh col suo poco italiano che c'ha cioè voi siete italiani doc tutti qua ragazzi in chat vi chiedo una cosa e non mi rispondete mi spiegate cosa cazzo mi guardate a fare allora beh la piaggio franco cioè io cerco di interagire con voi alla fine non è che sto cercando di interagire con con qualcun altro capito ma no però esatto capito bro io manco so giocare Elias però capito sto qua a streamare che grande questo è piaggio franco esatto cioè i comandi vocali scrivono loro per te che cazzo e vabbè però franco ho capito sei lì 60 bro non ti risponde nessuno ti incaccia normale che ti incazzi bro ti paga Jack c'è un soldato nemico no graderli no no bro giuro la priorità è uccidere tutti i nemici all'assacco pezzo di me affettatevi anche un po' fra di voi brutti cani cosa volevi tu amore mio volevi un po' di un po' di stucchio di minchia sulla schiena e tieni grazie 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 per le 145 grazie di cuore ciao Gianfra grazie mille Tatiana davvero grazie di cuore un bacione per Tatiana che senso di power ranger amore ha abito la nerchia grazie mille grazie 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 bello guardario Silvio grazie a tutti per il like ragazzi il gas via quasi addosso perché questo il persigaro ne sta usando scusate faccio la winok grazie 2500 vale impazzita abbiamo fatto partire il party nazionale così grazie mille vale grazie di cuore davvero grazie Tatiana e vale davvero grazie mille per aver fatto partire il party dai chat 50 stelline a testa lo chiudiamo questo party schifioso grandissimo merly oh erly ma non dico che dovrebbe essere così però una persona dovrebbe solo avere io non riuscirei a seguire 20.000 streamer ne seguo 1 2 perché voglio bene loro basta grazie franci per il 50 bello mio dai chat 50 stelline dai dai che lo chiudiamo ah ci vale davvero di cuore dagnidone grazie anche a te per il live bestia è esploduto si è esploduto oh ecco lì come non muore zio boh ma bro ma non è che non è che mi segnate anche a me a scappare così magari un giorno lo insegnate per favore perché veramente sono scioccato inserimento nella lista di ricercati confermata ma come è che ho tratto ricercato il grau si si il grau fammi fare auto adesso ma raga ho preso il ricercato sono un bot mamma raga mamma raga è normale, giusto bella Edison come stai Edison? tutto bene? bella Giuse che palle che mo' mi push sa dove suono eccolo lì però grazie per la sardettile regala amore mio ciao Giorgio grazie mille per la sabbile 500 franci impazzito no sono di più i modatori eh quello piglia la macchina eccolo lì mamma mia e pushami vieni tanto lo sai già dove sono no? ragazzi riscattate la sabbettina che ha appena regalato franci eh controllate le notifiche e riscattatela ma qua non ce l'ho scioperto contratto completato sei ancora in... ma sbaglio quanti cazzo grazie per la... mamma mia un'altra sabbettina frisciano grazie mille franci grazie che di cuore lo vuoi troppo bene frisciano già te l'ho detto sta roba quindi devi volere un po' male beh la Cree quando è party non sono tassate le stelle no no è diciamo per... invogliare a donare capito? prima ti davano un piccolo bonus per i party capito? ok Grazie a tutti. Sei il tuo figlio, Erly? Che bello, quanti anni fa? Che bella cosa, Erly. Spiegatemi, l'unico modo per fare soldi su cantiera qual è? Correre come un bot tutta la mappa? Quello. 8 anni. Che bella, Erly. Vi fate la festa? E tipo, c'è un obiettivo che a fine season lì tu scegli. Se prendi più blu ti dà la mimetica blu. Se prendi più rossa ti dà più rossa. C'è la mimetica rossa. E' una challenge, tipo per la community, capito? Anche mia mamma si chiama così, Erly. Lo sai? Anche mia mamma si chiama Sofia. Beh, adoro. Grazie mille per il like, bello mio. Capito, Elias. Sì, Erly. Anche lei, anche lei. Contratto riuscito. Campi di scorte, provate. Alla nuova zona sicura. Gas in arrivo. Ma... Ma non bene. Non bene. Non bene. E' vero, Franci? E' bello, Sofia è un bel nome. Non perché mia mamma è un bel nome. Va bene. Si sta riprendendo piano piano, però... L'età è quella che è, fratello. Cosa gli puoi dire? Autonomia UAV esaurita. Rientro alla base. Eh, speriamo, bro. Speriamo. Ciao, Andri, non è benvenuto, bro. Lo spero vivamente. Ti ha soldi, ma ha dato tutto. C'è un soldato, nemico. Vale, amiche, grazie a tutti per il like, ragazzi. Recon flyover. UAV in salvolo. Pezzo di... Mamma mia, chatte, che kill si è preso questo? Mamma mia, che kill ossa, uuuh. Mamma mia, regà. Dai, non sono contento anche io per voi, giuro. Vabbè, Landrino. Come stai? Mamma mia, ragazzi. Mamma mia! Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia raga, avete visto tutti eh, mamma mia Mamma mia, è passato, è passato veloce purtroppo Senza che lo capisci passa veloce, smontalo là il motore Questa è più su di me? Eccola Casi in arrivo, c'è una nuova zona sicura Mi ha messo il papà perché è il nome di mio zio che è morto Erly Nel 2001, è il nome del fratello di mio papà e mi ha dato il suo nome E c'ho sia il suo nome che il cognome suo Dai la giuse Merda Merda figlio di puttangera che sei oh Ok Ok Solo questo sai fare pezzo di caccone Sì, ce ne sono pochi In Albania le costano pochi Ma sì, tanto io qua in Italia mi faccio chiamare Don Tutti mi chiamano Don E il problema risolto E il problema risolto Gio 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 Bella Marco Come stai? Oh ma ora torno e lo rompiamo Per forza, giuro Sto bastardone me l'ha fatta Oh Dai però Ah Erlinda no L'ho già sentito Erlinda Sì sì, l'ho già sentito Erlinda Dai Forse anche in America qualcosa così si usa No Erlinda No Erlinda c'è raga Il problema è che fa cagare perché muori E appena muori devi fare il gulag Ma che cazzo è? Grandissimo Marcolino Il mio pezzo di me Che cosa? Il tu non l'ho mai sentito Ando a Erlinda con la N E il IAS così con due L No però Mi hai sentito E tornerai sul campo di battaglia Se perdi Non potrai Risolvi con le maniere Ora torna là fuori Voi che ero morto là? Beh la battivana è Giuseppe Grazie mille per i lag ragazzi Sei d'avvicinamento Nuova zona sicura Andate Ehi Faccio di equipaggiamento alleato È vero Ma fai coach Sì Matteo faccio anche coach Sì 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 C'è un soldato nemico Sei tra gli ultimi dieci Bene Sì 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 Il bastardone Scappato Stai mi rubi le kill che lascio one shot e poi scatti Va bene Sì stasera ci sono ragazzi Sono con Ilario Alicante stasera Avete più tente Mamma mia Mamma mia clipatemi sta Sta trackerata per favore Pippa di merda Pippa di merda Sono quello che ti ha devastato Ammo Perché mi dici così? Avete visto che è trackerata? Oddio Eccolo dai Ricordatevi ragazzi ci fate sempre le mosse dei vostri nemici Non così eh Arriba il gas Marco la nuova zona sicura Il gaspia quasi a torso Che so Sono nell'endgame Bravo figlio di putt Mamma mia Andrione e Edoardo grazie mille per i like Ragazzi grazie di cuore Prendi il cara Uno davanti uno dietro Sempre così lì Sempre così Scrivi pure il chat privata Matte per il coaching bro Scrivi pure Eee bot Beh da volte on Grazie mille per i like anche a te Dai ragazzi 9 non follower Ragazzi lasciate il follow qua sotto Tasto blu segui dai Non dimenticatevi dai Ma io raga non mi ricordo Sapete che c'è un grosso problema Perché non mi ricordo se pomeriggio Avevo un coaching con qualcuno E mi ricordo che però Di sì mi ricordavo di sì Ha fatto la sua prima kill Ma per forza bro Hai visto Ale Ti piace Bella Giovanni Grazie mille per i like Grazie 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 Come stai Giovi Mi ricordo Bella Giovannone nazionale Come stai bro Tutto bene Oh no Mi sa che non avevo Nessun coaching pomeriggio Vabbè meglio così Cosa vi raccontate Regà Siete al lavoro Chat Cosa combinate Comunque Faccio l'ultimo calderozzo Giorgio ti ho detto Che non sto facendo Il follow per day bro Faccio l'ultimo calderozzo Regà Poi dopo che facciamo Questo calderozzo Vado a mangiarmi qualcosina E torno un po' più tardi Va bene Tutto bene Tutto bene Giovi Non mi damento Con lo sniper Volete vederlo Un game Va bene Dai Controllate l'attrezzatura C'è tempo Prima della missione Sì raga Qua su coach Su Su facebook Va bene Michael Bene Emanuele Buon pomeriggio Ema Ma che stai Tutto bene Ragazzi per coaching Cose varie Iscrivetemi pure Qua in privato Raga Al lavoro Come sta andando Dimca Ti stai rompendo Perché sto pingando 460 Raga Dovrebbe laggarmi tutto Mi sa Non vorrei dire Ma non so se L'apre lobby Ma mi sta laggando Cioè sto pingando 450 No Non ho ancora provato Mike Magari Eh no Dopo di questo Stacco Magari Stasera lo proviamo Dai Stasera lo proviamo Stasera ragazzi Siamo come Nell'ario Licante Conoscete No Ilario Licante Accettare il carico Ma che mi sta pingando Così Cioè c'ho la latenza Stralta Raga Ma che cazzo Vai va bene Michael Ma raga ma scusatemi Ma io appena Cioè sto pingando 460 Se non mi scende Non c'è Prestarto Grazie mille Ruben Grazie di cuore Fatti sentire più spesso Ruben che a me Mi fa molto piacere Bro Davvero Ma che lobby è 430 di ping Sembra di giocare Con Boh Con le mosche Che volano Grazie Ruben Davvero Grazie mille Per le belle parole Raga Davvero Grazie 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 Comunque ragazzi Prima sono state regalate Due sabbettine Due E sicuramente Altre ne girano Controllate Qua sotto C'è uno scudo verde Controllate Se vi da un messaggio Come se già ce l'avete L'avete vinta Se no Bisogna farla Dai ragazzi Fate sta sabbettina Che poi facciamo pure Le private tra sab Pesanti Facciamo un macello Tra sab Poi ci picchiamo Dai Ruben Fatti sentire Davvero Che a me mi fa molto piacere Non devi Pensare che mi dai Fastidio cose Ah e voglio vedere Queste due sabbettine Che si riscattano Ragazzi Dai E tutti con le notifiche Controllatele Buonasera Buonasera Giosef Sergio Come state ragazzi Tutto bene Eh Giosef Puoi dare quelle vere Qua Che abbiamo la barra Da completare Come stai Bello mio Grazie per la condivisione Sergio Grazie per la condivisione Buonasera Anunzio Tranquillo Giosef Non scherza Ragazzi Stasera Stiamo con lui Vediamo chi lo conosce Vediamo chi riconosce La canzone Stasera Stasera Siamo proprio con lui Bella Simo Grazie mille Per il like Bello mio Perché vi leda Quando Questa è la pubblicità No Scusate Sempre il top Già lo sai Sergio Se no Neanche giochiamo Fratello Hai visto Ruben Cosa ne pensi Lasciate un bel follow Ruben Simone Ragazzi Vuoi nomi che non vedo Da tanto Che nomi Che magari non ho mai visto Lasciate un bel follow Regà Dai Che siamo verso i 10.000 Bella Federico Colmocio Sentite Vediamo se la conoscete Vediamo se sapete Chi la canta Se siete Real Che regalo Ti è arrivato Michelone Bella Federico Grazie mille Per il like Vede Grande Michelone Il grande Michelone Nazionale A quanto non lo vedevo Ciao Andrea Federico Grazie a tutti per il like Raga Grandissimo Ruben Bene Michi Fratello Tu come stai Tutto bene Chi la canta questa Chi la canta Vai Ditemi Ditemi Chi la canta questa Sentiamo se c'è qualcuno Un po' di intelligente In chat Beh Lorenzone Grazie a tutti per l'attenzione Arrivando un nemico Attenzione In alto Basta Basta l'energia Male Male Bene Lorenzone Davide Grazie a tutti per il like Ragazzi benvenuti Andiamo Ciao Maurizio Grazie mille per il like Grandissimo Anche il mauri Il big mauri Andate nella zona sicura Occhio Arriva un lancio di denaro Prendetelo Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Chiamo Vado E beh L'ho bucato attraverso la tenda Cioè gli ho dato i colpi in faccia Hai scelto la passione giusta Bella Prezzata Volete termini i tornei Dai Vedo che sta domanda Me la stanno facendo in tanti Mi sa che si comincia a fare Qualche torneino Eh si Mi sa che si comincia a fare Qualche torneino Quando spari in open E c'è il bonfano in giro Potrebbe succedere di tutto In questo caso Si è appena Sbubbato tutte le Le budella Comunque raga La Vargo S Ce l'ha del potenziale Che tornei vi piacerebbe vedere Caldera Rebirth Fortu skip Che tornei volete vedere Guardate che qua c'è uno Perché le altre A40 Sono delle cuffie Troppo belle Tornei su caldera Dai ci sta Lancio di equipaggiamento per voi Caldera Rebirth Un po' di caldera Un po' di rape Va bene Stasera mi informo Vedo un po' di tornei qua e là E poi Facciamo sia Rebirth Che caldera Ci sta Dai non è male Eh ma non perdo tempo Ma l'ho rittato Santo Dio Santo Cristoforo Colombo Santo L'ho rittato Cheap Cheap Dove vuoi andare Cheap Cheap Dove vuoi andare Cheap 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 Non ti muovi Hai capito Quando ti dico Che non ti muovi Non ti muovi Eh facciamo Rebirth De caldera Facciamo un sponsor Cioè Joseph Cioè Cioè Cheap 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 Poi che mi puissi? Non è uno sponsor di poco valore Ha una bella Giulio Quadrifoglio Da lasciarmi per un weekend Può fare Ma pezzo di merda Uno dietro e uno davanti Mamma mia Devo andare in prelobby per fartelo vedere Gianmarco Comunque si te lo faccio vedere Hai visto che è forte Michelone Poi siamo sempre in 38 Tanto vale non essere forte Sincero Sopravvivi e tornerai in prima linea Perdi e sarai fuori dai giochi Risolvi con le maniere forti O cattura l'obiettivo Non mi stemmiare Non mi stemmiare Andiamo a farci la L'appacchi ancora C'è una cassa di scotte Andate a prenderla Trappo aggiornato Nuovo obiettivo Bella Come si sale qua ragazzi C'è un tipo delle scale Che portano su Qualcuno raga sta ad aiutarmi Sa come si sale qua? Gas in avvicinamento Nuova zona sicura Bella Davide Grazie mille Prillike da Ecco C'era la corda Grazie Gianmarco Prillike Grazie di cuore Obiettivo raggiunto Tutte le casse di scorte Trovate Mamma mia Mi hai killato Dai ho capito Bombella Non l'avevo visto Che era lì Ma mamma mia Dove non mi terete salto Allora Mitraglietta La PPSH Te la consiglio tantissimo E il Grau PPSH E il Grau Mi kill le fan paura Giuro Ho fatto ieri una partita Io da 25 kill Qua su Caldera Ciao Antonia Raga io Sto andando Così mangio qualcosina anche Ci vediamo Stasera Che siamo con Ilario Ricante Stasera ragazzi Vi mando un bacione Ciao belli miei